Il Piazza del Plebiscito La musica tutta Napoli accoglie culture diverse che si incontrano in un augurale abbraccio di inizio anno. Ascoltiamo Anna Maria Palermo, direttrice dell'Istituto Confucio di Napoli, organizzatore della manifestazione. Pensiamo che ormai queste feste si devono condividere. I cinesi, come dicevi giustamente, hanno una cultura, soprattutto la cultura, come posso dire, proprio quotidiana, molto simile a quella dei napoletani. Cioè sono una società molto familista, molto legata alla famiglia e ai riti familiari. Chiaramente il Capodanno loro, io dico sempre per fare il paragone, che è un misto tra le nostre vacanze o la celebrazione di Natale e Capodanno. Un momento diverso di festa per i cittadini napoletani che sono a corsa in piazza per trascorrere una mattinata diversa dal solito. Tante infatti le occasioni per prendere contatto con culture diverse, con i maestri cinesi pronti a soddisfare le curiosità dei passanti. Un abbraccio simbolico per ribadire la pace tra due civiltà, quella napoletana e quella cinese.